Ciao a tutti, vediamo 5 segnali che ti sta manipolando. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. E veniamo a come capire, diciamo, che una persona ti sta manipolando, sia nelle relazioni sentimentali ma anche in altre situazioni della nostra vita. Ti ricordo che intanto farò un seminario venerdì 10 gennaio 2020 a Torino su come, diciamo, sedurre, conquistare le persone difficili, ma anche come sganciarsi dai narcisisti. Quindi il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai corsi può comunque abbonarsi al canale e abbonandosi al canale poi potrà accedere all'abbonamento top anche alle registrazioni dei corsi fatti dal vivo. Quindi è sempre un'opportunità utile. Basta andare sulla pagina, sulla home page del canale Massimo Terramasco e a fianco al tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti puoi abbonare e appunto accedere a questi benefici. Veniamo al tema, come rendersi conto che ti sta manipolando in una relazione sentimentale affettiva ma anche in relazioni familiari, in altri ambiti della nostra vita. Diciamo che smascherare un manipolatore non è sempre facile perché queste persone adottano spesso delle tattiche molto raffinate, sottili diciamo e spesso fanno gaslighting, cioè ti portano a chiederti se tu sei paranoico, diciamo così oppure se risvegliano in te un forte senso di colpa perché il manipolatore è sempre una persona con la quale c'è un certo coinvolgimento cioè non ti può manipolare il macellaio, il giornalaio verso il quale non hai nessuna, diciamo, nessun legame, no? Quindi questo è importante. Quali sono i segnali, diciamo, che indicano che sussiste una manipolazione? Diciamo che quando in una relazione di coppia c'è uno squilibrio, c'è una persona molto più coinvolta dell'altra, beh, spesso sotto c'è una forma manipolativa per cui è meglio riconoscere i segnali in qualunque relazione sia nelle relazioni di coppia ma anche in altre relazioni. Ad esempio un segnale molto tipico è il primo e che ti fa sentire in colpa per tutto. Quindi le persone che ti fanno sentire in colpa, che ti piaccia o che non ti piaccia, ti manipola, ti sta manipolando. Un altro segnale molto forte è che proietta su di te le sue magagni. Quindi delle cose che dice di te, se tu vai ad analizzare, soprattutto le cose, diciamo, negative che dice su di te, analizzare sono tratti suoi caratteristici. Un terzo elemento è che tenta sempre di utilizzare una strategia per minare la tua sicurezza, per toglierti sicurezza. Cioè semina dubbi, semina il dubbio sulle tue capacità, sulle tue capacità di affrontare la vita, sulle tue capacità di essere una persona, diciamo, in grado di gestire la sua vita. Ecco, cerca di renderti insicuro, insicura. Ti dà delle responsabilità che dovrebbero essere sue. E questa è una cosa interessante, no? Cioè, quindi, è come se tu dovessi farti carico, diciamo, di quelle che sono le sue esigenze, insomma. E quindi, siccome le sue esigenze cambiano, tende a farti vivere come se fossi sempre sulle montagne rosse. E, in ultima cosa, ti fa credere, diciamo così, che quello che desiderate voi cioè cerca di farti desiderare quello che lui vuole, in realtà. Fondamentalmente il concetto è questo, no? Quindi parla delle cose che vuole lui come se fossero le cose che interessano a te. Insomma, ti faccio questo regalo, ma in realtà è esattamente quello che vuole lui. Questo accade ovviamente in modo subdolo, diciamo, in modo nascosto, per cui, però, questi segnali, diciamo così, non devono essere tutti, ne basta uno per farti capire che probabilmente hai a che fare con una persona che in questo momento ti sta manipolando. Non è detto che sia un narcisista, però ti sta manipolando. Ti ricordo che io farò un seminario proprio su come sedurre le persone difficili e come sganciarsi dai narcisisti il venerdì 10 gennaio 2020 a Torino alle 20.45 e il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che chi non potesse partecipare ai corsi può abbonarsi al canale Massimo Terramasco semplicemente andando sulla home page col computer e accanto al tastino iscriviti, cioè al tastino abbonati, ti abboni e potrai accedere alle risorse, diciamo, iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!